E' il 22enne nazionale russo Ivan Smirnov con una volata di forza e potenza ad imporsi nel settimo trofeo città di Montelupo Fiorentino, gara nazionale tornata in calendario dopo la pausa dello scorso anno. La corsa per Elite Under 23 organizzata dal team Malmantile si è risolta con una volata di gruppo forte di 60 atleti, dopo un generoso tentativo di fuga operato dal retino Pesci, dal Fiorentino Pietrini, da Magli e Baldaccini sulla salita di Apulica San Donato. Sull'ultima asperita di giornata, quella del Grillaio, con il gruppo che incalzava il quartetto di testa, rimanevano al comando Baldaccini e Magli, raggiunti però a 9 km dal traguardo dal plotone, condotto in maniera impetuosa dalla nazionale russa. Si assisteva così ad una spettacolare volata vinta da Smirnov, eccellente pistard e velocista di fama. Ai posti d'onore due toschiani, l'encomiabile Pesci, tra i migliori in assoluto, ed il bravo empolese Biancalani.